Non hanno la grazia e la precisione degli Elfi, ma insistono nel lanciare frecce verso di noi. Non importa, finché mancano il bersaglio. Ammazza sogni! Ti ho sognato ancora. Mi stavi inseguendo attraverso Gorgoroth, ma più io mi sforzavo e più andavo lento. Eri un fantasma, uno spettro. Ho urlato il tuo nome, ma i denti mi cadevano tutti mentre scappavo. Pronti a morire? Pensavo fosse finita! Eri un fantasma, uno spettro. 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 Inizia a diventare un po' ripetitivo! Acuta osservazione. Uno degli assassini di Mordor. Ne troveremo altri. Eri un fantasma, uno spettro. 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 Lo zio! La prossima volta ti prenderò, mi vendicherò. Ah no, no! Sì, non è vero. Ehi, la preda! Le ali del ramindolo fanno volare. Ma... a che prezzo? A costo di quell'intorno a lui? A costo di... se stesso? È giunto il momento che ripaghi questo tuo debito. La morte batte le ali. E i suoi occhi si fissano profondamente... su... di te. Mi bruciarà viva! Ehi! 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 C'è un assassino! Ehi! 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 Muts! M deme prove! Ehi! M two... Ehi! M новa no! M M Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Ottimo cosa! Qualcuno mi salvi! Non posso... Alla finita, ok? Arrenda! Ci penserò un'altra volta! Qui non resto! Quanto ancora dobbiamo andare avanti? Quello cercava di fare il furbo in realtà. Non scambiare i trucchi per furbizia, inezie ed espedienti.